Com'è nata l'idea di questa mostra di illustrazioni? Il viaggio sentimentale in Lombardia nasce per l'immagine coordinata della nuova campagna Lombardia Style. Mi è stato chiesto di dar vita a 12 immagini, una per ogni provincia lombarda, che mettessero a confronto gli splendori architettonici, naturali, ma non solo, delle città e delle province e accostandoli a un elemento femminile che si rifacesse all'eccellenza della produzione e della creatività nel campo della moda. Nel momento in cui l'abbiamo presentata alla BIT, l'assessore ha visto i bozzetti preparatori e mi ha detto ma io voglio fare una mostra di questi, li trovo particolarmente efficaci. E quindi eccoci qua durante la Design Week di Regione Lombardia. Quindi la bellezza per te è femmina perché nell'impersonificare queste 12 province lombarde hai scelto solo figure femminili. Femminili, straordinarie immagini femminili e luoghi architettonici e questa proposta ha trovato il pieno appoggio dell'assessore Mazzali e del team, del grosso team che ha firmato Lombardia Style. Opportunità, carriere ma anche professioni legate a questo mondo che forse soltanto in Italia, Milano ma poi la Lombardia può offrire. Ho avuto molta fortuna però ho lavorato veramente tanto, prima di tutto identificando che cosa volessi fare ma a Milano se hai molto chiaro in testa cosa vuoi fare e come lo vuoi fare puoi davvero farcela.